E se poi qualcuno sostenesse che la stessa idea di materia informe e caotica fu introdotta all'inizio col nome di cielo e terra, poiché da essa fu tratto e perfezionato questo mondo visibile con tutti gli oggetti che vi appaiono così chiaramente che spesso si usa a designare col nome di cielo e terra? E se poi qualcun altro dicesse che cielo e terra non fu chiamata a sproposito la natura invisibile e visibile e che quindi in questi due vocaboli è compresa l'intera creazione effettuata da Dio nella sapienza, ossia in principio. Però, poiché tutte le cose non furono create dalla sostanza medesima di Dio ma dal nulla, non avendo esse la medesima sostanza di Dio ma essendovi in ognuna una certa possibilità di cambiare, sia che restino stabili come l'eterna dimora di Dio, sia che mutino come l'anima e il corpo dell'uomo, quindi la materia comune di tutte le cose invisibili e visibili, materia ancora informe ma certamente formabile, da cui dovevano uscire cielo e terra, ossia la creazione invisibile e visibile, in entrambi i casi già formata, sarebbe stata riferita con i nomi che incontriamo di terra invisibile e caotica e di tenebre sopra l'abisso. E con questa distinzione, terra invisibile e caotica, si dovrebbe intendere la materia corporea prima di essere determinata nella forma e per tenebre sopra l'abisso, la materia spirituale quale era prima di essere arginata nella sua esagerata fluidità e alla sua illuminazione da parte della sapienza.